Montascale e ascensori fuori uso con l'inevitabile conseguenza di limitare l'accessibilità alle persone disabili è l'ennesima segnalazione che arriva dal cimitero urbano in via Caorsana, ritenuto ormai da tempo in una situazione di incuria e trascuratezza da parte di molti piacentini che visitano i loro parenti defunti. Tra loro ci sono i cittadini Franco Ardenna e Verdiano Badagnani che pongono anzitutto l'attenzione sui montascale che non funzionano. E qui intanto non c'è nessuno che ha bisogno come fa un disabile questo è uguale alle altre che sono giù per salire su fuori uso e sono nuove e originite. E le lamentele sulla fruibilità dell'area si intrecciano a quelle riguardanti il decoro in particolare nella galleria dei loculi con ingresso da via Portapuglia e nei pressi della camera mortuaria. La situazione non è cambiato niente, forse anzi è peggiorata. Se si stacca all'intomico all'altezza di sei, saranno sei metri, cinque sei metri, gli cade in testa un pezzo può sapere le conseguenze di cosa succede. Sarà opportuno che l'amministrazione intervenga con celerità perché è ormai più di un anno che si è insediata. Si tratta della stessa esortazione contenuta in un'interrogazione urgente è depositata dal consigliere comunale Gloria Zanardi di Fratelli d'Italia. C'è un perdurare di uno stato di degrado e di incuria che deve essere assolutamente risolto nel rispetto soprattutto dei nostri defunti ma anche per una questione di igiene per quanto riguarda le infiltrazioni e anche di sicurezza e soprattutto anche rispetto all'accessibilità per i disabili. L'assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni fa sapere che è in fase di chiusura l'iter di assegnazione definitiva al nuovo gestore Altair attraverso un project financing di 15 anni, un appalto comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. Si definirà un piano di interventi su base triennale a partire dalle problematiche più evidenti. I Montascale, prosegue Bongiorni, saranno riparati.